Buongiorno Matteo Buongiorno, buongiorno alla piazza del collegio romano a Roma di fronte al liceo Visconti e fra poco meno di 5 minuti suona la campanella e comincia la sessione di esame con la prova di italiano Abbiamo parlato un po' con gli studenti che sono normalmente nervosi, con la giusta apprezzione per questo esame e gli abbiamo chiesto come faranno a copiare e sentiamo cosa ci hanno risposto Se non si è preoccupati adesso Come farete a copiare? Come faremo a copiare? Io ormai ci ho rinunciato, mi sono reso conto che non è fottibile Non ci credo però è una bella risposta Si spera che non sia necessario però nel caso ho vecchi metodi perché quelli nuovi Però ci sarà l'applicazione Temer Italiano, no? Eh ma non si possono portare i cellulari Lo nascondi Allora su dai fai vedere il cellulare, su allora Ho studiato soprattutto l'attualità e la storia perché sono comunque le mie materie tra virgolette preferite per il tema e spero appunto un argomento d'attualità che possa variare comunque non troppo nel tempo magari ecco gli ultimi avvenimenti in Emilia o magari parlare di Marò o comunque ecco Stretta cronaca Stretta cronaca esattamente Ieri sera in realtà non ha fatto niente, non ha letto presto alle 9 e mezza Non ha passato su Twitter, su Facebook a cercare tracce Un po' però tutto il giorno, non la notte, la notte no, sono andata a dormire Però ho dormito stranamente bene, ieri non ho dormito niente, stanotte invece sì Ieri non ho dormito stranato